Come è andata la prima stagione di Radio Capital? Ci sono stati poi dei cambiamenti nell'estate, come ti aspetti quella nuova? La prima stagione è andata molto bene solo che era una stagione un po' complicata per quello che è successo tutto intorno e quindi si fa un po' fatica a fare test. Adesso la seconda sta per partire, i cambiamenti ci sono ma sono dei piccoli aggiustamenti. La novità più importante è l'arrivo di Ambra nel pacchetto delle mattine quotidiane anche se benedetta è rimasta ma farò solo un programma la domenica perché nel settimanale era molto impegnata. Rimane secondo me una radio meravigliosa, spero che la gente se ne accorga un po' di più. Può essere adatta a un conduttore giovane che ovviamente non ha a che fare con il target della radio e nemmeno con la musica. Dipende dal termine giovane, io sono molto giovane, dipende dalla sua maturità, alla fine non ci sono, sai a volte essere più giovane o meno giovane non è un fattore anagrafico ma è più un fattore di atteggiamento e di stile di vita. Tra pochi giorni ci sarà se non ricordo male l'incontro del Mise con i rappresentanti delle radio riguardo lo switch off dell'FM, tu hai detto si chiuderebbe una pagina di storia, come ti aspetti la radio del futuro, come faresti tu questo cambiamento. Il cambiamento dal punto di vista tecnologico è estremamente complicato quindi non saprei dare più una risposta concreta. È chiaro che è inevitabile che anche la radio come la televisione, come tutti i mezzi vadano verso altre tecnologie che semplificheranno la ragione di esistere delle radio stesse. È chiaro che abbandonare l'FM è sempre una cosa che mette un po' di nostalgia, ma non credo che succederà molto presto, per cui per qualche anno ancora sentiremo quel frascare. Del tuo futuro, ne hai parlato anche nel tuo ultimo libro, hai mai pensato a chi ti potrebbe sostituire una volta andato in pensione se continuerà a DJ Chiamma Italia oppure si tirerà con te? Io credo che ognuno di noi sia talmente differente che non c'è da pensare al sostituto, non vedo uno che mi somigli nel bene e nel male, quindi sarebbe un errore pensare di rifare DJ Chiamma Italia con altre persone. Ci sono molti ragazzi bravi che stanno crescendo e sarà bello sentirli per me. In un'intervista di qualche anno fa avevi sostenuto che avresti voluto cambiare l'orario, la fascia di DJ Chiamma Italia a breve, di qualche anno fa? Sì, l'ho detto per un po' di tempo e ha ragione, l'ho anche pensato. La mia idea era quella di fare l'orario del trio Medusa facendo cambio con loro, perché mi sembrava che fosse un modo per dare qualcosa di nuovo sia al pubblico sia a noi che facciamo la radio tutti i giorni. Poi è successo qualcosa di magico negli ultimi due anni, per cui mi sembra che il DJ Chiamma Italia che stiamo facendo adesso sia quasi un programma nuovo nato da poco, perché probabilmente l'anno zero sono stati tre mesi della pandemia in cui ci siamo trovati a fare una radio molto più umana, molto più emozionale di quella che facevamo prima e questa cosa ci è rimasta per fortuna attaccata. Cosa cerchi nei conduttori? Quali caratteristiche devono avere per lavorare a radio DJ? Personalità, personalità. Una volta si cercava la tecnica, si cercava la bella voce, si cercava l'accento. Adesso la cosa importante è la personalità, che significa avere sempre qualcosa da dire qualunque sia la situazione, qualunque sia l'argomento, qualunque sia il momento. Per cui è importante avere anche una vita molto curiosa, molto piena, molto attena.